Siamo a bordo del nuovissimo Azimut Seaddeck in compagnia di Francesco di Marine Corc. Buongiorno Francesco. Buongiorno Emanuele, buongiorno. Siamo a bordo perché voi avete allestito l'intero piano di coperta con il vostro materiale. Sì, esatto. Questa imbarcazione è stata pensata da Azimut come una barca green rivoluzionaria nel mondo delle barche in quanto monta motori ibridi, utilizza tutti i materiali sostenibili e quale materiale più sostenibile del sughero poteva occupare la coperta. Ricordiamo insomma il materiale proviene da delle sugherete dove non vengono mai abbattute le piante per cui si utilizza solo la corteccia della pianta, la pianta viene preservata, tra l'altro la pianta quando viene decorticata assorbe il doppio di CO2 rispetto a una pianta normale, per cui è una soluzione altamente sostenibile, il materiale oltretutto è estremamente riciclabile e soprattutto il materiale a differenza del tech e dei sintetici che hanno una valenza puramente estetica, oltre ad avere una bella estetica in realtà ha diverse caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono. Quindi diciamo che è stata la soluzione voluta da Azimut e effettivamente sposa bene con il progetto che loro hanno lanciato. Io poi so che il vostro materiale è anche un isolante naturale. Sì, sì sì, il sughero è un isolante termico ed è un isolante acustico, viene utilizzato da sempre nell'edilizia proprio per isolare termicamente e creare efficientamento energetico proprio per le abitazioni e quant'altro. A maggior ragione in un'imbarcazione protegge sostanzialmente le cabine dal caldo d'estate e dal freddo d'inverno, oltretutto è un materiale che a differenza degli altri materiali non trattiene calore per cui non scalda mai sotto i piedi e crea un comfort a bordo perché è molto piacevole camminarci sopra. È veramente ottimale per questo tipo di utilizzo. Quindi possiamo definire Marine Cork la migliore soluzione per i piani di coperta? Secondo me sì, è un po' come l'oste che dice che il vino è buono, lo so, però effettivamente guardando pregi e difetti tra tutti i vari materiali abbiamo un materiale che innanzitutto è il più leggero che c'è in commercio, quindi su barche come queste dove cercano di sfruttare tecnologie ibride e quant'altro, a maggior ragione sulle barche a vela, su barche a vela performanti e quant'altro, avere un materiale leggero è indispensabile. È un materiale molto bello, molto confortevole al calpestio, è un materiale che come dicevo non necessita di particolare manutenzione, non si macchia con nulla, è facile da lavare, da pulire, quindi è molto utile, diciamo si presta proprio bene all'utilizzo nell'imbarcazione dando sicurezza anche nel calminarci sopra perché è il materiale che ha il più alto grip della categoria ed è l'unico materiale che se si bagna il grip aumenta anziché diminuire, quindi diciamo sì, secondo me è la soluzione ideale. C'è tra l'altro un discorso molto importante che adesso è molto sentito anche dai cantieri nautici che è proprio il discorso della sostenibilità, voglio ricordare che le esportazioni di Tec sono bloccate e sono bloccate per un motivo semplice, sono bloccate perché sono state sostanzialmente devastate foreste di Tec, il sughero non devasta nulla, anzi preserva e soprattutto abbiamo a bordo un materiale che non è un ulteriore plastica, un ulteriore materiale non riciclabile messo a bordo ma un materiale che si può riciclare in qualsiasi momento per qualsiasi utilizzo. Inoltre camminarci sopra è davvero confortevole, accennavi prima alla manutenzione, alla pulizia, come si lava questo prodotto? Allora la bellezza di questo prodotto è che non si macchia con nulla, cioè praticamente non penetra nulla, quindi tutto ciò che cade rimane in superficie, anche se dovesse cadere un barattolo di vernice è sufficiente farla seccare, poi si carteggia e non rimane nemmeno l'alone. Questo significa che se mi casca il caffè, il vino rosso, il sangue del pesce, esageriamo anche con il nero e seppia, è sufficiente sciacquare con la toccetta dell'acqua, senza usare detersivi e nulla. La coperta si pulisce semplicemente con una spazzola a setole medie e con dell'acqua. Se ci sono macchie di grasso, tipo olio, il pomodoro che cade quando si mangia, qualcosa del genere, in quel caso si usa uno sgrassatore banale, quello che si userebbe in una qualsiasi casa, in un qualsiasi pavimento di un appartamento. Immagino che voi fate anche il rilievo delle dime, delle misure, per poi installare direttamente un prodotto su misura per ogni tipo di imbarcazione. Sì, noi facciamo due tipi di fornitura. Forniamo il materiale pronto su Dima del cliente, Dima o disegno CAD del cliente, per cui con la cantieristica spesso ci troviamo che loro ci mandano i disegni tecnici e noi sviluppiamo il materiale pronto su misura solo da essere incollato, o se l'armatore vuole che pensiamo a tutto quanto noi, veniamo noi, facciamo i rilievi delle dime o con laser scan o con i vari proliner e quant'altro, sviluppiamo noi la coperta, la facciamo sempre a provare dal cliente per un discorso di disegno, di estetica e dopodiché veniamo ad applicarla e consegniamo un prodotto finito. Ecco, abbiamo parlato di prodotto, abbiamo parlato di caratteristiche e per quanto riguarda i costi? I costi sono nettamente inferiori al tech e diciamo che si attesta come i costi di un buon sintetico, insomma di un discreto sintetico, parliamo intorno, variamo dai 450 ai 500 euro al metro quadro per avere un prodotto pronto da essere incollato. Poi per quanto riguarda invece un discorso con l'installazione completa a rilievo di dime, ovviamente lì bisogna ragionare barca per barca perché bisogna capire bene quali sono le problematiche e che cosa si va incontro. In quel caso siamo ben lieti di fornire un preventivo dettagliato su tutta la fornitura. Bene, io ti ringrazio e ti faccio i miei complimenti. Grazie, grazie Emanuele.